Grazie a Prabhupada Sprabbu, a Miran Prabhu, a Marta Alberto, a Marta Simone per la amorevole e affettuosa accoglienza, davvero. Mi ha presentato come il responsabile del Tempio di Roma, no? Questa la devo raccontare. Proprio dura due secondi. Sì, sì. L'ascolto dal fondo. E' un devoto investito di potere speciale da Krishna per compiere questo importante servizio. Oppure un condottiero in capo dell'esercito di Sri Krishna e di Sri Chaitanya Mahaprabhu e pensava a tutte queste, secondo lui, verosimili risposte che Shila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, che vediamo qui ritratto in questo bellissimo quadro, pensava che queste risposte Shila Prabhupada gli avrebbe dato. Prabhupada, cosa significa essere responsabile di un Tempio? Prabhupada si è fermato, ha puntato il bastone per terra, lo ha guardato da capo a piedi e gli ha detto Presidente del Tempio, responsabile del Tempio, significa che se qualcosa va storto, è colpa tua. Bell'insegnamento, eh? Veramente bell'insegnamento. Denso e profondo. Ale Krishna. Il movimento per la coscienza di Krishna è un movimento spirituale. Si basa sull'insegnamento di un testo, chiamato, molti di voi lo conosceranno, anche chi viene per la prima... Questo? Sì. Anche chi viene per la prima volta, Bhagavad Gita, così com'è, lo conosceranno sicuramente anche le persone che sono venute, molto probabilmente, oggi per la prima volta lo conosceranno questo libro. Una certa, diciamo così, una certa controcultura atea, ovvero le culture di questo mondo materiale ostili, a me, a te, a te, a ognuno di voi, ostili, ovvero all'anima, cosa hanno fatto di questo libro meraviglioso di cui adesso parliamo un po'? Cosa hanno fatto? L'hanno confinato, questo testo, lo hanno spedito in esilio nell'Empireo dei testi sacri indiani antichi. Testi sacri, eh, quindi sacro, eh, io, eh, io sacro, io sono materiale, sacro, per me sacro è qualcosa di molto lontano, i santi, ma io non io sono santo. Antichi, quindi hanno definito un testo antico, anche antico, quindi oggi non è più valido, giusto? Una cosa antica, oggi i tempi cambiano. Indiano. Noi siamo occidentali e quindi una certa controcultura atea, materialistica, ha confinato, esiliato, avete presente quando qualcuno viene spedito al confino, no? Esiliato, lontano, lontano, in modo che nessuno possa vederlo, sentirlo, se non da lontano, qualche notizia così sparuta. Invece che cos'è la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita è un sommo capolavoro, tutt'altro che desueta, diciamo antica. La Bhagavad Gita è, oltre che di un'assoluta bellezza, oltre che di un'assoluta bellezza, anche di una praticità, e di un'attualità assolute, perfette. Perché cosa significa Bhagavad Gita? Bhagavad Gita, Gita significa, chi lo sa lo dica, lo declami a gran voce, Gita significa il canto del Signore, il Bhagavad del Signore, il canto del Signore, perché sì, la voce del Signore è così bella, così melodiosa, che quando parla, canta. La Bhagavad Gita, dovremmo, a giusta ragione, paragonarla, ad un manuale di sopravvivenza. Sapete il manuale di sopravvivenza? Quando ci si avventura in questi luoghi impervi, per esempio, una foresta, quando si scala una montagna, ripida, quindi luoghi affatto familiari, nei quali è difficile di stricarsi a noi non familiari, quindi cosa fa? Innanzitutto una persona si munisce di Bhagavad Gita, no, sì, si porta anche la Bhagavad Gita, però in questo caso specifico cosa si porta? in una foresta, pluviale per esempio, un avventuriero, diciamo, si porta un manuale di sopravvivenza, giusto? Si informa, studia, si lascia guidare e ha con sé sempre un manuale di sopravvivenza. Cosa c'è scritto nei manuali di sopravvivenza? Diciamone una, per esempio, un manuale di sopravvivenza in una foresta, cosa ci potrebbe essere scritto, per esempio? Come trovare l'acqua. Come trovare l'acqua. Come distinguere, per esempio, delle bacche o dei frutti commestibili da altri frutti mortali. Oppure, come costruirsi un rifugio. Per esempio, arriva la notte, uno vorrebbe costruirsi anche un rifugio, ma soprattutto, come uscire fuori da questa foresta. Da questa foresta. Giustamente, no? Uno fa un'escursione, poi ha bisogno di alcune direttive grazie alle quali potrà uscire, tornare a casa. questo mondo materiale, questo mondo nel quale viviamo tutti i giorni, è paragonato nelle antichissime, quanto attualissime, scritture vediche di cui la Bhagavad Gita fa parte. Diciamo, la Bhagavad Gita è l'essenza. Sapete com'è paragonato proprio il mondo materiale, in questo mondo che viviamo tutti i giorni? è paragonato ad una foresta dei piaceri materiali. Non so se tutti abbiamo colto questa frase, foresta dei piaceri materiali. In una foresta ci possono essere piaceri? Il piacere ci può essere nel nostro salotto, il piacere ci può essere mentre mangiamo cose squisite come avverrà fra non molto, ma in una foresta all'interno di una foresta parlare proprio di piacere all'interno di una foresta è un po' una contraddizione. Questo mondo materiale è paragonato ad una foresta, ovvero la foresta dei piaceri materiali, cioè dei piaceri effimeri, dei piaceri sapete a cosa è paragonato? Un grande poeta del passato paragonava la felicità di questo mondo al vetro. Com'è il vetro? Ha due caratteristiche fondamentali, il vetro è brillante se è ben pulito. Io sto con questi vetri ben pulito e brillante ma contemporaneamente anche molto fragile. Vero? E fa molto, molto male se si rompe in nostra presenza. quindi i piaceri in questo mondo materiale sono paragonabili al vetro brillanti, attraenti, coinvolgenti, affascinanti. si farò questa cosa ne godrò, sarò felice. Ognuno ha la sua poi, ognuno ha la sua meta. E poi però quando anche si raggiungesse il nostro obiettivo innanzitutto non è mai, questo lo possiamo confessare apertamente, tanto siamo qui, quanto siamo qui? Tra di noi, siamo in famiglia, possiamo ammetterlo che effettivamente quando raggiungiamo qualcosa che ci eravamo prefissi, prefissati di raggiungere, quando lo raggiungiamo è come avremmo voluto, è come ce lo immaginavamo? Soddisfa concretamente tutte le nostre aspettative? Sì o sì? No. No, no. Sarebbe che non c'è alternativa. No, assolutamente no. Altro spunto di riflessione. Riusciamo sempre a raggiungere ognuno dei nostri obiettivi? Ci riusciamo sempre sempre? No, eh? Diciamoci, abbiamo il nostro bagaglio, il nostro fardello, a volte troppo pesante di delusioni e però ci sono anche delle cose belle. Però, ecco, se le mettiamo proprio sul piatto, vedete presente quelle bilance che si usano, si trovano anche nei frutti vendoli, all'aperto, giornali di parti, a due piatti, no? A due piatti. Cos'è che pesa veramente di più? Siamo onesti. Sì, poi ci accontentiamo, siamo contenti quando raggiungiamo qualche obiettivo, qualche traguardo. Però, ecco, non è mai come avremmo voluto e comunque non tutti i traguardi sono da noi raggiunti. quindi questo è il mondo in cui viviamo. La Bhagavad Gita ci aiuta a capire tutto questo, innesca buon senso. La Bhagavad Gita è un detonatore di lucidità. la Bhagavad Gita è un capolavoro assoluto che dà questa possibilità. È un documento inoppugnabile la Bhagavad Gita. Concedetevelo, chi ancora non l'ha letta, chi ancora non l'ha, concedetevelo, concedetevi di scoprire questo. La Bhagavad Gita promette di tirarci fuori, sottrarci da questo, da questa foresta dei cosiddetti piaceri materiali. Il sabato del villaggio, chi se lo ricorda? Oggi ne stavamo parlando con alcuni devoti. Il sabato del villaggio, era tutto nell'aspettativa, la gioia, chi se lo ricorda? Leopardi? Leopardi? Era tutto nell'aspettativa. Arriva il sabato, arriva il sabato, arriva la domenica e poi di nuovo la delusione. Un altro grande del passato diceva che il valore prospettato di una cosa, di una certa cosa, ognuno ha i suoi traguardi, vero? Ognuno ha i suoi traguardi, ma abbiamo tutti lo stesso traguardo. Ma il valore che noi attribuiamo alla prospettiva di questo oggetto che vogliamo raggiungere, questa persona, poi il mondo, no? Questo mondo di cose e persone che ci circonda propone tante promesse, giusto? Allora, questo grande saggio del passato diceva che il valore di una certa cosa è tutto nella prospettiva, cioè la prospettiva, ciò che noi ci, come si dice? L'aspettativa, grazie, scusate, tutto nell'aspettativa, il valore dell'aspettativa è infinitamente più grande del valore reale della cosa. Questo grande anche del passato, non necessariamente spiritualisti avevano afferrato con le manine dell'intelligenza, questo aspetto sinistro del mondo che ci circonda, sinistro. E noi maldestri in questo mondo sinistro continuiamo a rimanerci un po' male. Non è facile ammetterlo, ovviamente, ci vuole una grande, grande, ecco, il consiglio, il consiglio che noi diamo sempre, il consiglio che dà la Bhagavad Gita, qual è? Uno di tanti consigli, diciamo, uno dei primi consigli, l'essenza della Bhagavad Gita è proviamo a prendere un attimino delle distanze, distanze di sicurezza, come quando guidiamo, no? Io non le prendo mai, c'è mia moglie che quando guido io ha i capelli dritti, però diciamo, dobbiamo, dobbiamo quella, quella distanza di sicurezza da cosa? Quotidianamente da cosa dobbiamo prendere? Da cosa dobbiamo fare? Un passo indietro di sicurezza per affrancarci un po' da queste pomme, pomme, dobbiamo sbattere costantemente il grugno come dicono a Genova, no? Anche a Roma, da cosa? Fare un piccolo passo indietro rispetto a tutti gli impegni che abbiamo quotidianamente, da tutte le distrazioni, poi piano piano si affina, abbiamo detto che è un detonatore di lucidità, giusto? Che innesca buonsenso la magra della vita, poi piano piano riesce a comprendere cosa è veramente distraente, cosa invece è giusta ed edificante per noi, ma prendere un po' le distanze da questo, prendere le distanze dalle cose che semplicemente dobbiamo fare, una piccola distanza per meditare, per meditare. Il consiglio della Bhagavad Gita è quello di meditare sui santi nomi di Krishna, santi nomi di Dio, nella formula facile oramai, anche che aveva venuto oggi per la prima volta, ha imparato, è il Mahamantra Hare Krishna, lo recitiamo insieme una volta, così vediamo se lo ricordiamo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, mi racconto una storia, vi piacciono le storie? Sì, mi racconto una storia che illustra bene il Mahamantra Hare Krishna. Allora, c'era un re e c'era un mendicante, un mendicante che era molto, molto contrariato, era molto arrabbiato con il re, diciamo era molto impidioso, e quindi era un suddito ribelle, e cosa faceva? spargeva dicerie sul conto del re, diceva a tutti, poi era molto carismatico, quindi sapete, una persona carismatica quando dice qualcosa molti gli credono, è un carisma, no? Spargeva dicerie sul conto del re, diceva che lui non si cura, il re non si cura mai dei bisogni dei suoi sudditi, noi siamo qui a mendicare, non si preoccupa per noi, non si occupa di noi, è interessato soltanto ad accumulare le sue ricchezze, a vivere con la sua regina, con i suoi figli, nel suo palazzo, e spargeva queste dicerie. I segretari, diciamo, i servitori più vicini al re, giunsero queste informazioni, queste notizie, questo vociferare, giunse alle orecchie delle persone più vicine, i consiglieri del re. Che cosa consigliarono al re? Di ucciderlo, di uccidere questo mendicante, perché loro erano convinti che questo mendicante ribelle, molto carismatico, avrebbe organizzato una rivoluzione. sire, uccidetelo. Il re, no, non lo farò, io lo voglio aiutare, piuttosto, faccia come crede, sire, ma stia molto attento. Cosa fece? Il re, si fece crescere la barba, lunga, 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 si vestì da mendicante e riuscì a scovare la capanna, umile capanna, di questo mendicante ribelle. E come andò nottetempo, lo svegliò e aveva un sacco, una bisaccia piena di cibo, unguenti per curare delle ferite, una persona che vive in mezzo alla strada, no, ha bisogno di queste cose. Lo svegliò, che c'è? Ovviamente non riconosce il re, pensava fosse un suo collega, collega di, di, di accantonaggio. Ti ho portato del buon cibo e ti ho portato delle medicine. Ah, grazie, aveva molta fame, potete immaginare. Allora subito divorò letteralmente questo cibo e utilizzò gli unguenti medicamentosi per appunto curarsi le ferite. E così ogni sera, per tanti, tanti giorni, divennero ovviamente amici. Eh? Conveniva questo mendicante divenire amico di questo benefattore. Una volta diventati amici, stretta un'amicizia e quindi fiducioso, diciamo, certo della fiducia conquistata, disse al il re, sotto le mentite spoglie del mendicante, disse al mendicante dobbiamo andare nottetempo nella stanza del tesoro del re, rubare quante più ricchezze possibile e organizzare una rivoluzione grazie a questo denaro, grazie a queste ricchezze, organizzare una rivoluzione. Questo glielo diceva il re, il re sotto le mentite spoglie del mendicante. e il mendicante ci ha pensato un attimino, sì, certo, così, andiamo, notte tempo, io e te, andiamo nel secondo te non ci scopriranno, ci taglieranno la testa, vola a basso, attenzione, non esageriamo, no, io conosco un passaggio segreto, certo, era il re, lo conosceva bene il suo palazzo, d'accordo, ovviamente con tutte le sue guardie, conosco un passaggio segreto. Viene ancora parlato un po', lo ha convinto, alla fine lo convince, va bene, andiamo, mai convinto, andiamo, e rivoluzione sia. Tant'è tempo, passaggio segreto, passarono, e attraversarono il giardino del re, a un certo punto il re so travestito da mendicante, si rivolge al mendicante, qui il re ogni giorno organizza una distribuzione gratuita di prasadam, chi non sa cos'è il prasadam? Chi non sa? Il prasadam è cibo consagrato, cibo vegetariano, offerto a Dio con amore e devozione, o comunque con un sincero tentativo di amore e devozione, nei confronti di Dio, la persona suprema, di Shri Krishna, ed il maestro spirituale, puro rappresentante di Krishna, quindi un'offerta di cibo, un'umile offerta di cibo al maestro spirituale e a Shri Krishna. Il re, tornando alla storia, beh, umile non tanto, che ci sarà una festa di quelle proprio luculiane questa sera, come tutte le domeniche, peraltro. Il re organizza tutte le sere, tutti i giorni distribuzione gratuita di cibo, prasadam, a tutti i poveri. Chi vuole venire può mangiare fino a piena soddisfazione. Oh, pensava questo mendicante. Oh, e piano piano il suo cuore, diciamo, gli iceberg del suo cuore, iniziarono a sciogliersi. Il cuore freddo di una persona invidiosa, eh, di una persona collerica, di una persona avida, e freddo, gelido, un iceberg. Iniziarono a sciogliersi questi ghiacciai pressoché eterni di invidia e livore e odio nei confronti del re. Continuando il percorso per giungere alla dove volevano arrivare, alla sala del tesoro. Passarono per altre stanze, in ogni stanza il re travestito diceva al mendicante eh, qui il re fa, compie quotidianamente quest'altra attività pia, in questa stanza compie quest'altra attività, attività di beneficenza, e insomma, praticamente gli dipinse un'immagine perfetta, un'immagine, l'immagine di una persona buona, esattamente il contrario di quello che pensava questo mendicante, perché una persona invidiosa non riesce a vedere, non riesce a vedere veramente la persona, le persone che ha di fronte, invidiosa semplicemente perché una persona ha più di quello che tu hai ed ha esattamente ciò che tu vorresti. Fa un problema perché quando poi tu ottieni qualcosa di molto importante si fa avanti l'orgoglio, come sono stato bravo, ho costruito il mio piccolo numero, ho raggiunto questo, ho raggiunto quest'altro, l'orgoglio, quindi facciamo un ping pong, la nostra coscienza diciamo è altalenante, passa dall'orgoglio all'invidia e dall'invidia all'orgoglio. Lo so che siete tutti, tutte persone virtuose, buone, non faccio fatica a crederlo, però è vero che comunque nel cuore di ognuno ci sono piccole tracce, per quanto piccole tracce di queste cose esecrabili, esecrande, orrende. E come l'invidia è bella? È proprio brutta. Ci si dimagra a causa dell'invidia, si dice un vecchio proverbio, l'invidioso dimagra per le fortune altrui. Comunque tutte queste bruttezze, sozzerie, bruttezze all'interno del cuore del mendicante iniziarono ad andare via, ad essere ripulito il suo cuore. Giunsero nella sala del trono. Il re disse al mendicante arrivo subito, aspettami qui, non ti muovere, aspetta, torno subito. Mi vedo di lì, di là. Si svestì, indossò gli abiti regali, la corona e solennemente si sedette sul trono. Il mendicante lo guardò. Ma tu, tu, tu sei re? Certo. Perché hai fatto tutto questo? Perché sei venuto vestito da mendicante? portarmi il cibo? Tutta questa messa in scena. Perché? E il re rispose perché ti voglio bene. Perché ti voglio bene. Ho voluto aiutarti. Io lo faccio, io questo lo faccio come servizio a Dio, come servizio a Shri Krishna. Utilizzare tutte le mie ricchezze, il mio regno, tutte le mie risorse per diffondere per diffondere la bellezza assoluta, inenarrabile della vita spirituale. Allora, perché questa storia illustra bene il Mahamantra Hare Krishna, stavamo parlando del Mahamantra Hare Krishna, della storia, no? Il Mahamantra Hare Krishna, il consiglio che la Bhagavad Gita ci dà di meditare su questo suono è quello che abbiamo, per esempio, cantato poc'anzi. Quello è il Mahamantra Hare Krishna nella forma cantata. Il Mahamantra Hare Krishna può essere anche, chi lo sa, può essere cantato oppure recitato. Più, può essere anche recitato. Quello recitato si chiama Japa, che significa sussurrare, se non ricordo male. Sussurrare. Quello cantato invece si chiama Kirtan. si canta con gli strumenti a gran voce. Ok? Stiamo parlando di questo. In entrambi i casi si medita su questa vibrazione sonora. Allora, il Mahamantra Hare Krishna si presenta a noi con focce diverse, diciamo in abiti differenti. Tre fondamentalmente. Da Kito la prima volta viene travestito da cosa? Da cosa? Viene travestito. Cosa vi è sembrato prima? Cosa vi è sembrato prima? Un semplice suono. Giusto? Un canto. È vero? Siete tutti d'accordo? Si manifesta in questa foggia. sotto forma di ordinario canto, di ordinario suono, un insieme di parole, come ce ne sono tante, una specie di formula magica che viene cantata, è ripetuta, è ripetuta, è ripetuta, ma non stanca mai, anche se viene ripetuta. Questo è interessante, interessantissimo, questo aspetto. potete rifletterci poi a casa, è possibile che la stessa frase sono solo tre parole in fondo, ripetute, ripetute costantemente, si può andare avanti per ore, e noi lo facciamo, e non stanca mai. da prima viene sotto le mentite spoglie di un suono, di un semplice suono, così come il re era il re, un imperatore, un monarca, non era un mendicante, però viene sotto le mentite spoglie di un mendicante, cioè di una cosa semplice, una persona semplice, umile, e così il suono, quanti suoni, il suono del vento, il suono della rata, il radio, il suono di quel cantante, piuttosto che di quello strumento, piuttosto che del vicino, o piuttosto che del cane del vicino, durante la notte, tutti i suoni, suoni, barra rumori, e così il Mahamatra viene travestito da suono. Cosa sarebbe successo? Faccio una domanda, come ti chiami? Con gli occhiali? Sì, come? Rosa, Rosa, cosa sarebbe successo secondo te, Rosa, se il re la prima volta si fosse presentato a un mendicante in quanto re? Cosa sarebbe successo? non ha mai avuto nessun tipo di contatto con questo mendicante. Vero? Perché aveva tanta rabbia nei confronti del re, giusto? Se lui si fosse presentato a lui, nel cuore della notte, gli avrebbe fatto del male, lo avrebbe, con levo, vieni bello, vieni bello, vieni, chiamo gli amici miei, chiamo il mio cugino, chiamo, vieni, 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 si è capitato, dove è la dama del lupo? Invece viene vestito da mendicante con qualche dono, e così viene il Mahamatra, e anche il Mahamatra viene con qualche dono. Sapete qual è il primo dono che il Mahamatra ci offre a piene mani, tanti, di questi esemplari di dono? Sparisce progressivamente l'ansia. Recitando il Mahamatra di Krishna, o cantandolo con dedizione, con determinazione, con costanza, voi lo sapete che una goccia, quando è costante, una piccola goccia, tante piccole gocce, una dopo l'altra, se cadono sempre sullo stesso punto, se quella è una roccia, cosa succede alla roccia? Oh, io sono una roccia, non mi scalfirai mai? Penso alla roccia. Però se è costante, una goccia, dopo l'altra, dopo l'altra, cosa succede? Che buca la roccia. La prima cosa che scompare nella nostra vita, puff, e non c'è più, è l'ansia. Cos'è l'ansia? Ma l'ansia è quella che sperimentiamo tutti i giorni. L'ansia è, tradotto, un soldone, come si dice, l'ansia è la paura di non ottenere ciò che vorrei ardentemente, una persona, una situazione, il denaro, una posizione sul lavoro, un oggetto. La paura, non ce la farò, non ce la farò. e ansia significa anche la paura di perdere ciò che è già il nostro possesso. Allora, allarme alla macchina, allarme alla casa, allarme alla fidanzata, al fidanzato, prima o poi inventeranno, sicuramente, un microchipo sotto la pelle del fidanzato, così ti becco io quando non me la farai. Paura di perdere ciò che già possediamo. Questa è l'ansia e questa credetemi, credetemi. E chi già lo fa lo sa. Ora, non facciamo tipo l'alcolisti anonimi che ognuno diceva sì, è vero, io prima e poi adesso non ho più l'ansia. Lasciamolo. Non è il nostro stile, diciamo, però chi canta, chi recita, chi medita sul Mahamantra Hare Krishna vede sparire come prima cosa dalla sua vita l'ansia. Ecco, questo è il dono, il primissimo dono, così come il re quella prima notte si recò dal mendicante con dei doni che elargì profusamente una cornucopia di amore di bontane riversata su questo mendicante analogamente il Mahamantra da subito, da subito ci permette di affrancarci dalla paura in tutte le sue forme, dalla paura e dall'ansia quindi, dalla paura e dall'ansia. qual è la seconda foggia nella quale la seconda veste nella quale il Mahamantra Hare Krishna si presenta al cospetto del sincero e onesto praticante della scienza spirituale, la scienza della realizzazione spirituale, scienza spirituale non è una religione, perché le religioni si possono cambiare, ma queste cose qui tutti vogliono che l'ansia scompaglia. Comunque, qual è la seconda veste nella quale si presenta il Mahamantra Hare Krishna al cospetto dell'anima sincera, dell'individuo sincero, del praticante onesto e determinato? si presenta come energia, come energia potente che può modificare non, attenzione, non gli scenari esterni, ma cosa? La mia percezione degli scenari esterni, questo è fondamentale, muta, modifica geneticamente la nostra coscienza in meglio ovviamente, perché? Perché noi impareremo grazie a questa seconda veste, secondo aspetto più profondo, più intimo del Mahamantra Hare Krishna se noi continuiamo a meditare su questo suono, tra virgolette suono, perché non è un semplice suono, si manifesta come energia dirompente che ha la capacità di farci percepire la realtà diversamente, non più natura assassina, non più è colpa tua se mi vanno male le cose, si è colpa tua, è inutile che ridi, è ridi, è colpa sua, me l'ha fatto questo, questo, questo e quest'altro, giusto, quando ci succede qualcosa, no? è colpa sempre di qualcuno, è colpa tua, è colpa tua, è pure colpa tua, sì, non dire che entra lì dietro, fa finta di, è colpa, certo non è colpa mia, se le cose mi vanno male, ma alla fine se non troviamo un colpevole, perché non lo trovo un capo respiatorio, come si diceva, se non riusciamo a trovarlo, perché è proprio evidente che non è colpa sua, non è colpa sua, a chi diamo la colpa? Alziamo gli occhi al cielo, ma che amico sei? Beh, questo è un eufemismo, perché c'è gente che addirittura bestemmia, c'è gente che sviluppa un, una collera, un'ira funesta nei confronti di Dio, che se veramente si presentasse al suo cospetto, Dio al suo cospetto, di questa persona arrabbiata, lo distruggerebbe, ma è impossibile, però, l'attitudine sarebbe questa, no? Quindi lui non si presenta subito vestito da Le, ovvero dal Supremo Signore, da Bhagavad, abbiamo detto come si chiama questa? Bhagavad Gita, Bhagavad, ovvero Bhagavan, il Supremo Signore, il Sommo Sovrano. Come secondo aspetto, questo dell'energia, abbiamo detto, no? Modifica la nostra percezione del mondo esterno, e anziché annegare nelle acque della collera quando le cose vanno male, contro i rovesci di fortuna, giusto, la collera, o annegare nella colpa, è colpa mia, che volte c'è questa, no? Il senso di colpa, no? Feroce, rampante, furioso, no? Uno pensa di essere colpevole, no? Ecco, si passa da una sfera alla sfera opposta, no? Gli antipodi. Allora, anziché annegare in queste acque, il Mahamantra, Hare Krishna, ci bagna con la grazia della consapevolezza, della lucidità. Eh, l'abbiamo detto, innesca il buon senso. Buon senso è buon senso. Buon senso significa che riesci a discriminare. Buon senso significa che la tua intelligenza, la naturalis ratio, come la chiamavano anticamente, la ragione naturale, la naturalezza di una ragione affinata e preparata ad affrontare le vicende e le vicissitudini, questa intelligenza ci fa vedere che tutto quello che gli succede in bene e in male, gioie e dolori, eh, queste sono, queste cose qui fanno parte di questo mondo. C'è un verso molto bello dice La persona saggia, la persona lucida, che ormai è ben situata su questa piattaforma di buon senso e non si lascia scolaggiare, abbattere quando le cose vanno male, che tutta a me non è possibile, è una vita che le cose mi vanno male, non riesco a trovare la persona. perché noi solidiamo, però, questi sono piccoli drammi quotidiani e noi cospargiamo questa frustrazione tutto intorno a noi. Questo si respira fuori, tutti che si lamentano del governo, della moglie, del marito, dei figli, del vicino, del tempo, del, è sempre la mentale, il cibo, soprattutto che mancano i soldi, la crisi, il lavoro, non c'è. Lucidità, quindi. No, 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 quelle cose che mi succedono le devo tollerare, grazie a questa lucidità, a questa forza acquisita, a questo entusiasmo che ci fa sforzare con intelligenza nella giusta direzione, ci fa capire che dai se mi succedono delle cose anche se non ricordo perché ma è colpa mia, dai, questo si chiama, chi lo sa come si chiama in sanscrito, oramai ci fanno pure le marche, c'è una marca anche di microfoni, di, ci sono degli elettori domestici, una marca, il famoso oramai karma, giusto? La sapete, la conoscete questa persona? Il karma, attenzione, non è lo strumento di punizione di questo Dio proprio funesto che non vede l'ora che qualcuno faccia questa pa! Tiè! Ah, è sbagliato! E ti mando un cancro, ti mando un... Eh, ti mando un... Ti faccio dare una testata, questo è proprio da spropogare, ho dato una testata contro... Prapù, tutto bene? Per favore, faccelo sapere. Batti un colpo, non con la testa, questa volta, per farci sapere che stai bene e che è tutto a posto. Questo che rispediamo, allora, lucidità, passa, passa, è colpa mia, è colpa mia anche se non me lo ricordo, anche se è passato così tanto tempo, è una buona ragione dire non me lo ricordo? Ti ricordi cos'hai mangiato? Come ti chiami? Valentina. Valentina, arricchia Valentina. Ti ricordi cosa hai mangiato quindici giorni fa a cena? No. Figuriamoci. Dove hai messo le chiavi? Oddio, le chiavi? Non voglio, non voglio turbarti. Trovate le chiavi, sì? Sai dove stanno le chiavi? Dove hai messo le chiavi? Chiavi e ombrelli si scordano facilmente, no? Già che ricordi i volti delle persone. Sì, di qua si dimentica, c'è poco da dare tanta dignità e valore alla nostra capacità di ricordare le cose, così ci si dimentica tutto. Figuriamoci se posso ormai ricordarmi perché mi stanno succedendo oggi queste cose. Questi sono semi piantati, ovvero ogni azione è un seme. ogni azione è un seme, anche in fisica. Azione, reazione. Qui funziona così, questa è la dura legge del mondo materiale, qui funziona così. Azione, reazione. Azione buona, reazione buona. Azione impia, riprovevole, reazione feroce. qui funziona così. E come faccio a ricordarmi? Ma chi si ricorda? Perché oggi, cosa ho fatto per meritarmi oggi questa malattia? Io ho l'asma per esempio, no? Io ho l'asma, soffro di asma. E gentilmente, gentilmente, Vincenzi, no, scherzo, no, scherzo. E per farlo sentire in colpa, ma lui non si sente in colpa, perché sa che va tutto bene, che Krishna controlla tutto, e lui ha soltanto... chi si ricorda perché? Che ne so, perché io facevo la... chissà cosa facevo, tanto da meritarmi oggi questa malattia, questo asma, per esempio, ma la persona saggia, tollera, tollera quest'altalenanza, quest'andi rivieni, di gioie e dolori. Gioie e dolori, non si esalta, quando arriva una gioia, non si deprime, quando arriva una sofferenza. Sa che non ci sono veramente colpevoli, ma sono soltanto esecutori, inconsapevoli, strumenti del mio karma. Questo non significa che devo porgere sempre l'altra guancia, e torno ogni giorno con una faccia così, a casa, pieno di lividi e chimo si lascero contuse, non posso ogni volta porgere l'altra guancia. Però, debbo capire che le cose funzionano così, me lo sono meritato. Sofferenza, la sofferenza è il risultato di un errore. L'avete mai vista così? È difficile vederla così, secondo voi? Che la sofferenza che sperimenti è il risultato di un errore. Come ti chiami? Come ti chiami? Con la maglietta verde? Aldo. Aldo. L'avete mai pensato, Aldo, così? Che la sofferenza è il risultato di un errore. Faccio un esempio. Faccio un esempio banalissimo, proprio banale, banale. chiodo, chiodo, martello. Se sbaglio, errore. Becco il dito. Qual è il risultato? Sofferenza. Faccio il dito. Poi dipende da quanto forte picchi, no? Puoi perderlo, oppure un nematoma. Quindi funziona sempre così. A volte gli errori commessi sono molto, molto indietro nel tempo. Ma ecco perché c'è tanta varietà in questo mondo. Ecco perché non siamo tutti ricchi uguali, belli uguali, intelligenti, uguali, con gli stessi obiettivi. Perché c'è tanta varietà? Sul via, dobbiamo questo qui, questo e sul qua. Ecco perché consiglio al Bhagavad Gita facciamo un passo indietro. Il Bhagavad Gita ci dice prendi un po' le distanze quotidianamente, non abbandona quello che tu fai quotidianamente, ma prendi leggermente delle distanze e rifletti su queste cose. Si introspettivo, si riflessivo. Studiamo questi testi, la Bhagavad Gita. Vediamo cosa ha da dirci la Bhagavad Gita. Meditiamo sul Mahamantra Rekrishnam perché se continuiamo arriverà la terza, la terza immagine del Mahamantra Rekrishnam. Ovvero si presenterà così com'è il Mahamantra Rekrishnam. È la forma più misericordiosa e più vicina e più di facile assimilazione della persona suprema e Dio nella forma di suono. Pensate un po'. C'è un verso bellissimo nello Sri Maddaka. Namacintamani Krishnas Cittanyarasa Vigraha te lo ricordi? Purnasuddo Nitya Suk Purnasuddo Nitya Mukto Hare Krishna Abinatvat Nama Namino Significa una cosa fondamentale quello che ci stiamo dicendo adesso. La terza forma non c'è Abinatvat non c'è differenza tra Nama e Naminò tra il nome e chi è nominato. Abinatvat Nama Naminò non c'è differenza. Se noi continuiamo 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 un bel giorno così come il re si tolse gli abiti da mendicante così il Mahamantra e Krishna si svestirà di questo di questa veste di semplice suono e si manifesterà per quello che è Dio la persona suprema la persona suprema in persona davanti a noi. Questo. Questo cosa che vorrei chiedervi se ci sono domande quesiti feroci obiezioni così io la ripeto per internet perché non so se non credo che si senta però si può essere che si senta prego come ti chiami? Krishna Das Hare Krishna Hare Krishna grazie mi ha trovato oggi prendono i ladri vanno a rubare ai privati ai cittadini e il giorno dopo li mettono fuori e vanno a rubare di nuovo poi li riprendono ancora sempre gli stessi un giorno li prendono sul posto di reate e li lasciano fuori e lei ha detto ma questo è una eh eh umilmente le chiedo a lei di eh umilmente le dico queste cose qua perché è attraverso il karma eh che si dicevano le reazioni delle reazioni passate che solo Dio lo sa se non sappiamo quello che abbiamo diminato nelle reazioni passate come è possibile come come è possibile se la come è possibile che chi commette un reato non viene più pulito e hanno portato i carabinieri sono arrivati i carabinieri in chiesa a parlare ah proprio tu parli proprio di una persona specifica a parlare ai fedeli come difendersi dai ladri ora un povero anziano come fa a difendersi da un criminale punto interrogativo eh anche se preparato se deve essere armato dovrebbe essere armato ma la legge di età gli armati cittadini alla chiesa ma non ci dovrebbero rivolgere a chi fa le leggi punto interrogativo come la pensa lei che come è possibile questa cosa qua quindi come reagire di fronte a queste ingiustizie sì esatto perché viene il volto a stomaco perché poi ognuno gli viene il volto a stomaco se il prete mi acconsente ai carabinieri di andare in chiesa a dire ai cittadini anziani come si devono dipendere dai ladri e loro li prendono e li mettono fuori come come si può dipendere un anziano un anziano una donna una donna egitta una vecchietta un vecchietto da un criminale incallito com'è possibile questo non è più tollerabile non è più tollerabile non è più tollerabile ok aveva il dovere di dire allo questa è la domanda ma scusa ma è il servore lo voglio dare che sfoghi molto la prego Krishna Das che nome servitore di Krishna doveva rivolgersi al capo di stato al governo come vi tramettete voi a ritroverarli giusto ma che dovevo siete va bene va bene e non fanno e allora e allora vedi che c'è urgenza di lucidità in questa società poi noi a volte parliamo ora non voglio inciampare nella trappola del comizio però a volte diciamo il nostro governo i nostri politici siete sicuri che sono vostri li avete votati voi stanno lì perché voi ce li ha ma voi avvicini no vero però perché stanno lì sono e quel che è peggio inconsapevoli del loro essere strumenti del vostro karma del nostro karma mentre scontano il loro perché anche loro hanno i loro strumenti allora qui si tratta di cambiare visione qui si tratta di innescare buon senso nella nostra vita nella nostra coscienza il maha mantra del krishna pulisce tutto questo torniamo ribadiamo il concetto la bhagavadita il maha mantra del krishna la pratica della meditazione sul maha mantra non sono qualcosa di settario non sono qualcosa di religioso di spirituale ma io non me la sento tanto di fare vita spirituale perché io sono più per la vita materiale cioè che vita ha la materia che vita che significa vita materiale pensiamo di avere un'alternativa no il maha mantra di krishna veramente ha questo potere di elevare gradualmente la nostra coscienza veramente e non è non lo diciamo così per dire e chi non lo canta chi non lo recita chi non medita su questo maha mantra se lo facesse se ne renderebbe conto che rimanga questo da questo incontro per chi è per la prima volta venuto oggi che rimanga questo provatelo a voi stessi sapete a cosa è paragonato il maha mantra di krishna che ci tira fuori da questo pozzo oscuro di apparenti ingiustizie attenzione non è mai un'ingiustizia mai non esistono ingiustizie se praticate la vita spirituale in maniera seria vi renderete conto anche voi che non esistono ingiustizie proprio non ce ne sono sono soltanto esecutori inconsapevoli questo mondo prego come ti chiami? no sono stato un po' impaziente no va bene come ti chiami? Nicola Nicola è proprio un nome delle parti nostre di Alberto facevano in questi giorni facevano una situazione sul karma quando si parla di karma si ha sempre l'impressione che in questa vita ci portiamo dietro a stomacinio pesante che è karma è passissima azione la giustifichiamo ma è karma che mi sto portando dietro ma se il karma determina la condizione di vita voglio dire che nel momento stesso che io lascio questo corpo vado chissà dove il karma succedono gli altri succedono delle situazioni in cui io mi rincano di nuovo in funzione del karma dell'azione che ho vissuto io quando sono su questa terra sono su una posizione di causa e effetto se agisco faccio dover agirco male però mi porterò subito le conseguenze le mie azioni così funziona hai visto hai visto che ogni azione genera una reazione a volte in consulta mi chiedevo se stavo pensato giusta comunque noi 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 questa è la domanda allora la ripeto brevemente per internet perché forse sia un po' lontano Nicola non so se ha colto se hanno colto da casa Nicola chiede ma come facciamo questo è un ginebraio parafraso questo è un labirinto come agisci reazione la quale reazione si trasforma in un'altra azione che diventa a sua volta una reazione che si trasforma in un'altra azione che genera un'altra reazione e che è qua che cos'è te per chi perché sto qua in questo posto assurdo per favore tiratevi fuori giusto? a volte viene tiratemi fuori da qui no ci vuole riparere ci vuole riparere? che io non sono in questa posizione non sono più parte dell'interessante sono parte di quella che sto vivendo adesso no perché quello che tu hai addosso che tu chiami il tuo corpo che non sei tu siamo tutti d'accordo che non siamo questo corpo? si siamo d'accordo? che oggi viene per la prima volta non siamo questo corpo questa è una buona notizia prima cosa che ci dà cita Bagadabini scusa non siamo questo corpo si siamo l'anima eh si guarda tu sei Nicola mi collego mi riaggancio un attimino faccio un piccolo excursus e poi ritorno su di te va bene? come ti chiami? Angela Angela per comprendere la morte bisogna comprendere la vita tu chi sei? in realtà chi sei tu? chi sei tu? 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 io? questi sono argomenti che si rivolgono alla coscienza chi siamo veramente? ci siamo resi conto che abbiamo cambiato tanti tanti vestiti corporei da quando ci chiamano Angela Aldo dov'è? Aldo Nicola da quanti corpi abbiamo cambiato? e non eravamo forse una persona prima che ti chiamassero Angela? non eri forse già una persona? e chi eri? hai visto il corpo che ti è cambiato? e tutto quello che riguarda il corpo è cambiato i gusti i desideri io ti chiedo Angela da quanto tempo? io ho avuto questi cambiamenti eh certo da oggi mi sembra una persona ancora molto diversa diversa però attenzione non sei tu ecco l'errore nel quale non dobbiamo inciampare tu non sei una persona diversa tu sei tu con una nuova un nuovo assetto corporeo e sottile di pensieri desideri voglio chiederti da quanto tempo non desideri quando è stata l'ultima volta che hai desiderato il latte della mamma? perché eri molto piccola perché è passato talmente tanto tempo no? è una domanda tesa a far capire che veramente hai cambiato gusti quando eri bambina piccola 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 il latte della mamma era il pasto più succulento oggi magari una lasagna il latte della mamma io non lo desideri più ma neanche io eh sono un po' strano così però non è che c'è cose neanche io ne sono qui tante cose che ti riguardano sono cambiate ma c'è una cosa che non è cambiata mai se tu sfogli il tuo album fotografico e ogni mamma ne conserva uno cos'è che io ho un anno sfogli io tu dici io ho due anni sfogli io cinque anni sfogli io sei tante cose che vedi tanti cambi più che cambiamenti cambi però ci siamo capiti tanti cambi di corpo ma c'è una cosa che non cambia mai qual è io 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 vedi che tu attraversi indenne tu sei sempre tu tu con un corpo da bambina poi le cellule muoiono nascono e muoiono le cellule nuove prendono il posto le cellule vecchie i globuli sanguigni nascono e muoiono il corpo è fatto di queste cellette chiamate cellule ogni sette nove anni più o meno il corpo cambia totalmente ma tu sei sempre tu io mi ricordo di quando ero adolescente e facevo questo questo e quest'altro giocavo con le bambole con la vicina di casa oggi non ti passo neanche per l'anticamera di giocare con le bambole con quell'amica lì giusto? perché sono cambiate tante cose ma tu sei sempre tu tu sei un'anima eterna tu sei tu sei tu 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 tutti quanti noi io siamo capolavori dal valore inenarrabile siamo dei tesori inestimabili però abbiamo accettato una versione di noi stessi praticamente piccola e insignificante piccola 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 invece sei un'anima uno splendore col tuo corredo eterno di sapienza e di gioia in continua crescita sempre di più aumenta aumenta questo è il tuo corredo eterno non esiste non esiste non esiste non esiste penuria reale se sperimentiamo una qualche mancanza a livello economico a livello per esempio di sentimenti abbiamo un vuoto vogliamo amare e abbiamo questo vuoto se sperimentiamo una qualunque forma di vuoto una qualunque forma di mancanza una qualunque forma di incompletezza è bene che noi quanti tutti quanti si sappia che questo vuoto che noi proviamo che questa incompletezza che noi sperimentiamo altro non è che il risultato di una incompleta conoscenza di come stanno realmente le cose e allora accettiamo una versione di noi stessi piccola e insignificante e la Bhagavad Gita ci salva con la Ghyana Dipa Ghyana Dipa Bhagavad Gita decimo canto undicesimo verso una delle quattro colonne portanti di un testo pieno di colonne un verso fondamentale ci dice Krishna dice con una dimostrazione d'affetto di cui anche se spendessimo milioni di parole non potremmo mai veramente descriverla questa bontà questo amore ai nostri confronti ci dice io sono con te nel tuo cuore tu nel tuo mio io sono nel tuo cuore e dissipo le tenebre della inconsapevolezza le tenebre dell'ignoranza grazie alla torcia luminosa della conoscenza a questo punto detto questo che siamo anime dal valore proprio incalcolabile scusa possibile mai quanto può costare un Van Gogh secondo voi miliardi miliardi quanti quanto possibile non faccio domande direte non voglio turbare nessuno possibile mai che un uomo un essere umano debba valere 800 euro al mese è un quadro miliardi di dollari perché accettiamo perché non impariamo perché non impariamo ad amare l'idea che siamo dei tesori formidabili perché continuiamo quotidianamente ad accettare una versione così assurda di noi stessi perché ci disattiviamo perché ci lasciamo che il mondo materiale disattivi la nostra consapevolezza allora la Bhagavad Gita ci viene incontro per venire a Nicola va bene Angela vado avanti poi è chiaro queste cose non ci si può aspettare di esaurire tutto la Bhagavad Gita o gli argomenti spirituali in un incontro ma sono spunti di riflessione coscienza di Krishna da sempre un tuo corredo eterno Angela possono dare un po' di soddisfazione il prestigio di altre persone sì sì non hanno secondo me non ci hanno seguito effimeri mi dispiace che prima prima ci credevi non li capivo adesso ce l'ho adesso eh va bene molti anni un po' da questa parte si è sviluppata ancora di questa cosa Angela quando ci si sveglia da un incubo ti immagini tu di sognare di rubare e arrivano i gendarmi diciamo i gendarmi oddio con l'odiana memoria non dico arrivano i carabinieri arrivano arrivano i carabinieri nel sogno se a un certo punto ti svegli arrivano i carabinieri quello che hai fatto hai fatto nel sogno se ti sei svegliato non ci manca solo che arrivano i carabinieri perché ho sognato che ho rubato eh dai su eh che assurda situazione paradossale questo per indicare cosa ti sei svegliata basta quello che hai fatto hai fatto nel sogno vita materiale via incubo e non è un sogno c'era una canzone che diceva eh non svegliatemi se sarò prigioniero di un sogno vabbè reminiscenze dalla giungla questo non è neanche fosse un sogno ma comunque un sogno è bello cioè un sogno è un sogno cioè per quanto bello possa essere ma questo non è neanche un sogno questo è un incubo come se pessimista ah no scusa se qualora qualcuno venisse qui dicendo che sei proprio pessimista no innanzitutto il pessimista lo sapete il pessimista è un ottimista ben informato perché qui si muove qui muoiono tutti qui mortalità al cento per cento e c'è poco da fare qui muoiono tutti questo è un incubo se tu sogni un sogno che muoiono tutti prima uno poi l'altro poi tocca pure a te come lo chiami questo ti svegli santa pace di Dios per fortuna mi sono svegliato è così se tu ti svegli alla coscienza di crescita se tu lasci che la Bhagavad Gita esploda imploda dentro di te generando lucidità e ragione naturale ti svegli ti svegli a quello che hai fatto hai fatto tornando a Nicola Nicola nel momento in cui tu ti svegli è finito quello che qualunque cosa tu abbia fatto anche l'azione più riprovevole sai riprovevole l'azione più infame è un incubo è un incubo questo è un incubo materiale dove tutti sono strumenti dell'altro del karma io sono strumento del tuo karma tu sei strumento del mio karma e tutti quanti così andiamo avanti ci incrociamo no? questa trama ordita non so Nicola se quindi per smettere di creare generare reazioni buone o brutte che siano dobbiamo fare solo una cosa smettere di agire puntini 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 materialmente non smettere di agire fermo fatalista fatalista no? questo fermo succeda quello che succeda anche se respiri quanti esseri viventi ha ucciso respirando mi do una bella grattatina io ho fatto una strage questa come si chiama falangina falangetta come si chiama falangetta ci sono 7 miliardi di esserini viventi qui una cosa impressionante 7 miliardi mi hanno contati non lo so vabbè c'è qualcuno che li conta comunque li hanno contati questo c'è 7 miliardi soltanto qui sopra qui come mi muovo è un disastro allora l'unico modo è smettere di agire materialmente ma agire spiritualmente che vuol dire agire materialmente e questo poi concludiamo perché siamo già nell'orario e mangio sono le 7 da moderastra non devo fare la prima volta che succede che guardo l'orologio in tempo stavo dicendo aiutatemi ah sì che significa agire materialmente agire materialmente significa che io agisco per ottenere un beneficio io ma io ho quelli che stanno con me la mia cerchia il mio entourage addirittura posso arrivare ad agire per il benessere di tutta l'umanità quello si chiama egoismo divergente ma sempre egoismo è perché c'è questa parzialità tutti gli esseri umani io sono un umano è come se io mi stessi inumando all'interno di questa bara di questo sarcofago io sono questo corpo io sono un umano italiano e lotto per i diritti di Torino che ne so lotto per i diritti dell'Italia lotto per i diritti di tutti gli umani dei 7 miliardi gli umani invece invece dovremmo renderci conto che facciamo parte di una famiglia ben più allargata famiglia spirituale se si risveglia l'amore per Dio naturale conseguenza del meditare sul mahamantra e la kresha quello che va via l'ansia è solo un sottoprodotto vi ricordate che abbiamo detto prima che va via l'ansia quello è solo un sottoprodotto pensate un po' scopo l'amore per Dio si risveglia l'amore latente per Dio già presente nella nostra coscienza ma adesso noi siamo inconsapevoli sviluppato questo amore naturalmente questo amore traboccherà verso gli altri ma verso gli altri tutti gli esseri viventi però sguardo equanime salma sarvesh boteshu si dice in sans scritto sguardo equanime vedi l'anima vedi che quello è tuo fratello quella è tua sorella non è un altro con il quale competere quindi Bhagavad Gita ci dà questa lucidità e il Mahamantra di Krishna ci conferisce questo tipo di lucidità quindi agire materialmente significa agire per noi stessi agire spiritualmente significa agire poi cosa fate tutti i giorni c'è una cosa che fate tutti i giorni mangiare mangiamo tutti i giorni cosa facciamo questo bel cibo cosa facciamo questo cibo lo incameriamo tutte le parti del corpo le mani l'intelligenza per preparare un ottimo e squisito pasto tutte contribuiscono per poi nutrire cosa? lo stomaco no stiamo parlando del corpo ancora scusate sono proprio materiale però un esempio è un esempio teso a comprendere un punto più elevato sono proprio materiale me lo dicono tutti quindi tutte le parti del corpo vi immaginate una mano che dopo aver impastato un bel dolce o del pane squisito e fragrante a un certo punto si rivolgesse l'altra mano e dicesse mano sinistra eh senti dimmi sai che c'è? eh l'abbiamo impastato noi no? questa bella magnotta sì effettivamente sì dice l'altra mano beh che vuoi e se ce la mangiassimo noi stavolta anziché darlo sempre alla bocca la bocca che lo dallo stomaco mangiamocela noi questo bel piatto di spaghetti al sugo e l'altra ci pensa su l'altra mano sinistra ci pensa su sai che c'è? c'hai proprio ragione c'hai dai tuffiamoci questo piatto di spaghetti al sugo il pomodoro qual è il risultato? ciaff ciaff una scena eh? si sporcano poi arrivano le formiche perché poi se non si lavano si ammalano eh? giusto infezione e la cosa peggiore qual è? che non si nutrono se invece la mano le mani a un certo punto riacquistano la lucidità ah e ricordano ah ecco perché stiamo soffrendo subito subito riconoscono il nesso tra l'azione compiuta di mangiarcela da solo questa pasta e la sofferenza riconoscono subito il nesso ah ecco perché soffriamo ecco perché la fame non ci passa perché stiamo sbagliando metodo ah fanno così non fa così ah non fa così le mani non avete mai visto le mani che dialogano tra loro fanno un po' così ah è vero Eureka allora ricominciamo a fare quello che abbiamo sempre fatto prepariamo del buon cibo e lo diamo tutto dice la mano destra lo diamo tutto allo stomaco e la mano sinistra dice ma neanche un po' poco poco uno spaghettino un maccherone una briciolina per noi no perché ogni briciolina che tu trattieni è una sconfitta che tu subirai eh tutto allo stomaco lo stomaco è la centrale diciamo energetica no lo stomaco poi tutte le sostanze nutritizie nutritive vengono come si dice vengono distribuite in tutto il corpo e anche la mano misticamente ma com'è possibile che cibo da qui e poi mi riceve giovamento la mano il piede tutto come è possibile è la centrale elettrica preposta a elargire salute chi è la centrale energetica la fonte dell'energia di tutto quello che esiste i religiosi lo chiamano Dio i filosofi sapete come la chiamano la causa di tutte le cause i scienziati lo chiamano il big bang ma ormai non ci credono più neanche loro il grande botto se lo dice in italiano fa pure ridere il grande botto gli scienziati della bhakti i professori trascendentali della scienza spirituale da sempre l'hanno definito Krishna Krishna Dio la persona suprema l'infinitamente affascinante la causa di tutte le cause quindi attività spirituale significa che io utilizzo le risorse che mi circondano il mondo di cose e persone io lo beh una persona brutta la si utilizzi però utilizzo tutte le risorse per soddisfare la persona suprema mi tornano i conti ha senso secondo voi questo c'è qualcuno che vuole che la pensa diversamente io certo non sono la causa di tutte le cause giusto non proviene da me tutto quello che esiste una volta un ragazzo andò da Shira preoccupata e gli disse Swami domani viene Bhagavan in città Bhagavan significa Dio la persona suprema un avatar però quando ha detto sì veramente sì sì domani vado a trovarlo una folla di gente perché Dio si presenterà domani in pubblico uno Swami molto importante che è una manifestazione di Dio proprio Dio va bene poi mi racconterai giorno dopo anziché andare a questo appuntamento si ripresentò da Shira preoccupata e Shira propata disse come mai sei qui non dovevi andare da Bhagavan non dovevi andare dall'avatara da Dio oggi no hanno annullato l'appuntamento e perché no aveva mal di denti è andato da dentista e proprio propato ha detto noi non vogliamo avere niente a che fare con queste specie di Dio oppure alcuni dicono medita e diventerai Dio se ho capito ma mentre mediti chi è che mantiene tutta la baracca mentre tu cerchi di diventare Dio che chi manda avanti le galassie togna il singola foglia che non si muove foglia che Dio non voglia quindi non sono io la causa di tutte le cause non sono io il motore affatto immobile dell'esistenza di tutto quello che esiste non sono io quindi qualcuno deve essere quel qualcuno lasciamoci concediamoci il tempo con pazienza e determinazione per scoprirlo attraverso la Bhagavad Gita e attraverso la meditazione del Mahamantra Hare Krishna bene poi se ci sono altri quesiti adesso già da un po' siamo nella fase della parabola discendente dell'attenzione quindi è giusto che adesso si vada avanti col programma che è cantare da Modarastacam che si offrono le candeline e si offrono le candeline grazie a tutti grazie a tutti